c'è un sole che cuoce il cervello partinole mi ha un problema ti si senza però guarda che panza che hai mi avevi promesso che ti saresti preparato per la prova costume mi avea capito la prova costine e beh dai per stavolta ti perdono mi hai portato al mare e hai trovato anche un cat sitter per i miei gattini guarda me vedete un sagò sulla testa cos'hai? l'aureola come i santi ma Dino ho solo un unico dubbio la persona che hai chiamato per tenere i gatti è affidabile e come no è il bubba da vicenza è il conosco da una vita il bubba da il bubba da Dino torniamo subito a casa ma tacca giusto a star comodo bubba cosa stai facendo? che arroia adesso parecchio apolenta la che sta proprio ben col coneglio oh i miei gattini salvati appena in tempo da questo sudicio essere e lei chi è? è la mia amica Elisa è la che guarda i gattini mi usano la mia moglie ne ho tempo che state altre bestie so Elisa da Vicenza gattara della professione a difendere i gatti vicentini dal pegnaton ma che arroia ma come? ma che avevo già appetito? tieni il langorino e mangiati l'insalatino che i gatti qua che penso a me e me li mangio dei bacini vabbè ma caroline pensai tu dal buon che lasciessi i tuoi gatti impasto a un vicentino? eh io lo temevo va bene Dino possiamo tornare al mare ormai ho capito che mi posso fidare di te e di Elisa qua e grazie bubba che arroia solo una curiosità cosa stai cucinando bubba? avevo cattato un po' di tartarughine qui in te le ho orto quasi quasi adesso mi faccio un bel brodo di tartaruga aaaaaaah tina e pina nooo le mie tartarughine adorate le ho comprate alla sagra di colà del 76 che arroia visitate il sito www.micciogatto.it è un sito che parla di gatti a 360 gradi in collaborazione con veterinari ed esperti e mettete mi piace sul canale del Dino e sul mio e i link li è nella descrizione iscriviti al canale